Come ben sapete anche nelle squadre più forti che hanno vinto i trofei più ambiti ci sono sempre quei giocatori che stanno un po' fuori luogo come nell'Inter del Triplete c'erano i vari Arnautovic, i vari Mariga, Muntari eccetera eccetera come nella Roma dello Scudetto per esempio c'era Lupatelli, nell'Italia del 2006 c'era ovviamente gente come Zaccardo, come Barone eccetera eccetera però voglio affrontare soprattutto il discorso legato al primo, il terzino destro che ha giocato bene nel Parma, nel Palermo, in queste squadre principalmente poi ha fatto altre avventure col Carpi, col Milan però con risultati molto meno soddisfacenti perché sto parlando di lui? Praticamente lui dopo le ultime stagioni con i Carpi si è ufficialmente svincolato ed è sul mercato io pensavo che un giocatore quando va sul mercato alla fine sono le stesse società che si interessano a lui non è tanto lui che si offre ad altri, cioè quando il giocatore è svincolato lui dicono vuoi fare il tuo contratto, vuoi che ti offriamo questo contratto eccetera eccetera e dopo uno decide se accettare o meno, invece sembra che stando a quello colletto ovviamente Zaccardo si sia offerto come nuovo giocatore su LinkedIn, LinkedIn spero di averlo detto bene che è un sito che dovrebbe essere un sito di annunci, un sito di annunci su internet in cui uno che ne so, cerco lavoro come magazziniere, cerco lavoro come fumettista eccetera eccetera lui si è iscritto a questo sito e ha fatto questo annuncio di richiesta, di assunzione tra virgolette come nuovo giocatore di una squadra allora io posso capire che il giocatore non sia al livello migliore della sua carriera però considerando che non da protagonista, però ha vinto un mondiale essersi ridotto a fare un annuncio su un sito internet per chiedere una squadra che lo faccia giocare è diventata una cosa veramente ridicola poi ovviamente io non me la voglio prendere con il giocatore perché che ci può stare che magari in questo punto della carriera ha penso 35-36 anni suonati è difficile trovare una squadra che ti possa far giocare però se proprio non si è dove giocare, ci sono due scelte, ci sono il guppio, e non ci darebbe fastidio in tirsine destro o la fiorita alla fiorita gli può servire benissimo un tirsino puoi magari offrirti a loro loro sarebbero contenti di farti diventare il tirsino destro e titolare sarebbero orgogliosi di avere un tirsino campione del mondo nella propria squadra quindi io do un consiglio a Zaccardo se stai vedendo questo video ne dubito ma se lo stai vedendo offriti alla fiorita o al gubbio perché sono sicuro che riuscissi a trovare spazio in entrambe le due squadre ma a parte gli scherzi per me secondo me è una cosa un po' ridicola soprattutto per un giocatore che potrebbe trovare tranquillamente mercato in alcune squadre se si impegnasse un po' cioè fare annunci del genere mi sembra quasi da ultima spiaggia come a dire io ci provo vediamo se qualche sfigato mi prende se mi dà qualche spicciolo per sopravvivere però, cioè, per dire però sono cose che da uno che ha vinto comunque un mondiale non si possono veramente vedere spero che qualche squadra lo prenda però vedere dei certi post mi fanno pensare veramente che nonostante uno fa una carriera positiva e con tanti anni in Serie A può ridursi anche a questo livello fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa cosa era un video un po' leggero per raccontarvi di questo piccolo episodio particolare che è legato ad un ex campione del mondo ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre Forza Roma ciao ragazzi ciao